La squadra mobile ha eseguito all'Aquila la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla propria moglie nei confronti di un 41enne accusato di maltrattamenti. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari Guendalina Buccella su richiesta del sostituto procuratore Guido Cocco. Le indagini avrebbero dimostrato che il 41enne gestore di un bar insieme alla moglie a causa di una morbosa gelosia si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti e percosse contro la donna anche davanti ai figli piccoli. A denunciare è stata la stessa donna dopo l'ennesimo fatto avvenuto lo scorso primo febbraio quando nel corso di una lite causata da futili motivi sarebbe stata vittima di una grave violenza da parte del marito che l'avrebbe spinta a terra in presenza dei figli trascinandola per i capelli per l'intero appartamento e causandole traumi diffusi su tutto il corpo. Si sono fatti passare per dei podisti per poter arrestare uno spacciatore subito dopo la consegna di una dose di cocaina ad un cliente. Così i carabinieri di Lanciano hanno bloccato un 22enne originario di Napoli ma residente nel capologo frentano trovando nella sua abitazione 500 euro in un marsupio e altri 10.000 nascosti sotto un tappetino della sua auto. I carabinieri ritengono che la somma sia provento dello spaccio di un solo mese. Il PM Francesco Carusi ha disposto gli arresti domiciliari. L'uomo sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia domani dinanzi al GIP Massimo Canosa. L'operazione dei carabinieri coordinati dal capitano Vincenzo Orlando è scattata questa mattina alle 7. L'uomo stava spacciando in pieno centro a Lanciano ma i carabinieri lo tenevano sotto controllo da diverso tempo. Antonio Inaurato, presidente della terza commissione, ieri a fine dei lavori ha approvato un licenziato, un provvedimento importante per la nostra regione, testo unico per il commercio. Sì, la proposta della giunta è stata approvata in commissione dopo un lavoro importante, va sottolineato con un tavolo tecnico con i dirigenti della regione e con la condivisione e con la compartecipazione delle organizzazioni sindacali, di categoria, dei lavoratori, con la partecipazione del Lanci, quindi una capacità di mettere in moto un mondo e di condividere una proposta che non è certamente sempre possibile, che ha portato a un risultato importante per un settore strategico per la economia regionale. Sport e ciclismo, una brutta notizia per Sulmona, la Valle Peligna e l'intero Abruzzo. Salta a Sulmona il Gran Premio Confetti Pelino che si sarebbe dovuto svolgere in questo mese di giugno. La causa è da attribuire alle strade dissestate. Ne parleremo tra poco nella rubrica Il Punto, dove ci occuperemo della presentazione degli altri eventi che invece si svolgeranno regolarmente, organizzati dalla SD Confetti Pelino Sulmona tra poco. Grazie a tutti!